su uno sfondo color crema un cardellino appolaiato su un sostegno verde il piccolo uccello è così reale che sembra di poterlo toccare l'apparente semplicità e intimità del dipinto sono in effetti frutto di una grande maestria Fabrizius fu il più grande allievo di Rembrandt ma costruì il proprio stile su un'inversione della tecnica del maestro che rappresentava il soggetto chiaro su uno sfondo scuro mentre Fabrizius il soggetto lo mette sempre scuro e posto su sfondo chiaro la particolare attenzione di Fabrizius alla precisione e alla nitidezza visiva è una caratteristica della sua opera che influenzò notevolmente Ian Vermeer probabilmente suo allievo l'attenta composizione la semplicità di base di questo dipinto sono come un presagio delle opere di Vermeer Fabrizius morì tragicamente durante l'esplosione di un magazzino di polveri da sparo ad Elft mentre stava eseguendo un ritratto